Guarda, guarda, guarda Nooo Citazione a Dennis Dossi, non ho capito Challenge Bascherina a bucalata e patatina, vai, challenge A petto nudo, con una brioche No, scrive uno che è grimbo, ma è singolo Occhio per occhio, dente per vento Ma questa volta il preside non è stato così severo Ma è una notizia terribile Ma che cazzo? Eh, non l'avevo capito io Ma certo, è una notizia terribile Mannaggia la madonna Nooo Non mi fa... 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 Venta da 120 euro Noooo Una spacco, eh... Una起amh! Una carico... La spacco, gli faccio spruzzare il liquido addosso al muro, eh calmi basta con sto Grimbod con sto Grimbod ma che fai state a mangiare che è sto d'odore del brodino che arriva un brodino poi che ne so stiamo a fare una puntata sembra da star arcoso arcinese ma guarda arcinese ma che cazzo è una tavola calda ma stiamo a dare la calda non stiamo a fare a vedere il collegio stiamo a parlare che cazzo è qua è un podcast ma io ho una domanda se hai mai avuto in tua vita un po' di vino io ti rappresento no sì ma c'è qualcosa di giapponese sì ma giapponese Gianluca ma che cazzo sta a fare ma sbatti il sangue finto che abbiamo fatto per il la canepa dimmi la verità sì come avete sta ragazzetta la prof ah ragazzetta vabbè per di come avete normale amministrazione non si stupisce canepazzo ci vuole di più normale amministrazione passa e cammina non ti piace quando dico passa e cammina passa e cammina che vuol di passa e cammina spiegaci un po' che vuol di sto detto allora io mi riallaccio tanto tempo fa quando io stavo tante volte ero piccoletto così magari c'era mia madre che faceva ma guarda questa passa e cammina nel senso che passa ma non avete nessuno capito passa e cammina è normale non è né bella né niente di che capito quelle belle sono quelle che te fanno fai da un po' a proposito ieri sera hai rimorchiato è vero ma l'hai vista la live stavi in chat ma stavi in chat hai stato la linguetta eh ma non sento facciamoglielo vedere ma pure io io l'ho mandato su whatsapp ma te sei proprio un boomer ti ho mandato su whatsapp il link in che senso un boomer ma clicca sul link di whatsapp che senso un boomer che senso un boomer rigidano scusa ma io gli avrei voluto fare una domanda la domanda quella proprio la pante ma tu come gli fai i gnocchi no nel senso ride Davide vabbè allora non si può dire più niente qua i gnocchi di risa io penso che la domanda migliore che potessi fare in effetti lei ha fatto ha fatto così poi ha visto la tua foto e ha detto si vabbè perché è una buona gustaglia vabbè che caro è una buona gustaglia ha detto che vuole venire qua l'Italia per mangiare il tinamisù di pompi e io lo amo subito no nel senso io lo amo subito nel senso che io io ma da pompi ti pare che dici no a pompi andai da pompi no come fai a dir no a pompi no a pompi pompi no pompi no non sai come fai a dir no a pompi è impossibile è pompi no poi ti pompi no è impossibile no no pompi no pompi no pompi no vabbè quindi c'è una buona da pompi sì o no è una cosa sì ma quindi pompi sì pompi sì pompi sì pompi sì pompi sì o pompi no allora e poi deve un bel bocchino no no però ragazzi qui stiamo qui stiamo scendendo di livello però ragazzi qui stiamo scendendo di livello allora ragazzi no dove vai un saluto a tutti e vado via perché qui se sta scendendo di livello la mia unica ragazza prima di Alex c'è un diabete ma era una balena no 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 spesso sono marchi sportivi esatto Nike sì esatto sì ok una cosa ti volevo chiedere tipo Nike Nike ma come parli Nike si dice sì sì che cazzo lo dicono tutti Nike Nike sì sì ho capito vabbè dai facciamo uno sponsor alla Adidas alla Adidas alla Adidas no 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 pompi no 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 basta no non me l'ho aspettato ragazzi non possiamo andare l'ho aspettato ma c'è l'ho aspettato ragazzi non sapevamo nulla come potevamo sapere no un po' di più nazionale non me l'ho aspettato comunque regà cavolo che è ma devi partire in treno esatto devi partire in treno ma gabbiamo no papo l'app train si avvicina a 1.07 ma che è sta arrivando là il treno è arrivato ma lo vedi che hai tempo limitato per ottenere ancora non è stato ottenuto papo papo partire in sto treno ma che livello arriviamo al mille al mille al mille al mille ma è pazzo è pazzo ma che è la notte ma che è la notte di San Silvestro il quinto livello è difficilissimo ci potrebbero riuscire solo veramente Cicalone Calel ah sì Cicalone allora ragazzi io è il quinto livello il quinto livello sto sul podio non gliela famo non gliela famo attenzione 29% gliela famo gliela famo gliela famo gliela famo ah ragazzi se arrivo al 100% mi tiro giù i pantaloni no 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 mi tiro giù la tuta mi dissocio si arriva no 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 eeeh oddio 82 5 sabbe regalati oh regà un minuto ce la faremo 83 devastazione oh la madonna pure col cuoricini ma cosa è il 24% oddio 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 c'è bannano c'è bannano un quadro sopra prima c'è bannano attenzione 98 ma cosa va c'è bannano c'è bannano c'è bannano oddio 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 ma che gli hai dato ma è già la pegno ma è già la pegno ma che cazzo gli hai dato alla pegno è molto piccante ma che gli hai dato a sto paruomo ma che cazzo c'era là dentro il cantino ti ho detto una crocchetta non una crocchetta una polpettina un bel polpettino ma che c'era là dentro un peperoncino e formaggio fuso che cazzo ma è buono ma che cazzo 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 Grazie a tutti.